Ciao a tutti! Questa puntata di Racing is Life sarà un po' diversa dal solito, in quanto oggi voglio farvi vedere un aspetto fondamentale riguardo le corse, ovvero il fermarsi, riflettere, con lo scopo di imparare e migliorarsi. Sono un paio di giorni che ci do dentro con l'effervescente per digerire l'incazzatura di gara 1 e le mazzate che ci ha dato Machado. Porca miseria, io quando ho visto i tempi non ci credevo, sono... anzi siamo rimasti tutti scioccati e da questo weekend di gara sono emerse tante cose importanti che voglio analizzare insieme a voi. Ora, nella vita capiterà sempre, qualunque cosa facciamo, di trovare qualcuno che ottiene i risultati migliori dei nostri. All'università magari noi studiamo come dei pazzi, ci sbattiamo, ci impegniamo, arriviamo all'esame, 18, e poi arriva quello che ha studiato la metà di noi e si piglia 30 elode. Oppure sul lavoro, lavoriamo, lavoriamo, facciamo gli straordinari e magari performiamo la metà di uno che lavora la metà di noi. Oppure in pista, io ho fatto un giro dove mi sembrava di essere al limite, impiccato, non ne avevo più, poi arriva uno che mi dà un secondo e sei. E non so né dove né perché. E a questo punto esistono due categorie di persone, i perdenti o haters o sfigati, falliti e i vincenti. Ma fate bene attenzione, questa è una cosa fondamentale. Vincente non è chi vince e perdente non è chi perde, ma vincente è colui che di fronte alle difficoltà si rimbocca le maniche, analizza la situazione, studia e cerca una soluzione. Anche se questo lo porterà comunque magari a non vincere mai. Si può essere vincenti senza neanche arrivare mai realmente a vincere, perché alla fine il vincitore è solo uno, ma i vincenti possono essere più di uno. E si può essere perdenti anche se si vince. Perdente è chi invidia, chi cerca scuse, chi accusa di barare e che si siede senza mai impegnarsi per migliorare e resterà fermo per sempre lì. E qual è il meccanismo pericoloso di questa situazione? Il meccanismo malato è che il perdente nella sua testa si considera un vincente. Perché quando vede qualcuno che ottiene i risultati migliori di lui si limita a dire è raccomandato, ha avuto fortuna, è figlio di papà, hai il mezzo che va più forte. Quindi sta dicendo che la causa del suo insuccesso è qualcosa di esterno a lui, qualcosa per cui lui non può farci nulla. Quindi nella sua testa non ha perso. Ma la realtà è che così facendo, quindi ponendo la causa dei suoi insuccessi al di fuori di lui, non si migliorerà mai e resterà fermo lì per sempre. E fate attenzione anche qua, per essere vincenti non bisogna essere talentuosi. Bisogna solo sbattersi e impegnarsi per riuscire a fare le cose al massimo delle proprie possibilità. Anche se siamo scarsi in tutto, vincenti non si nasce, si diventa. Quindi oggi sono qui per fare questo video e analizzare insieme a voi perché questo weekend ho preso la paga e per cercare una soluzione. Quello su cui voglio porre l'attenzione è che magari questa strada non mi porterà mai a vincere nulla. Magari questo weekend ho preso la paga perché sono meno bravo degli altri. E per quanto mi impegni ci sarà sempre qualcuno migliore di me. Magari in moto migliorerò sempre qualcosina ma non arriverò mai a fare i tempi di Luca. Magari perché sono sano di mente e non ho la follia che mi dice tieni aperto ai 2,60 al curvone di Misano. Con la moto che pompa e i santi appesi lì in tribuna al curvone che ti aspettano. Ma quello che è certo è che impegnandomi ogni giorno migliorerò. E non starò fermo lì a puntare il dito. La strada del vincente è una strada difficile in cui si prenderanno sempre delle grandi batoste, bisognerà sempre mandare giù bocconi amari e magari non si vincerà mai nulla. La strada del perdente è una strada facile, una strada in cui nella nostra testa noi abbiamo sempre vinto. Ma la vera realtà è che condurremo una vita triste, inutile, fermi sempre nello stesso punto mentre il mondo andrà avanti. La cosa bella della vita è la libertà. Ognuno di noi è libero di scegliere la propria strada e di fare quello che gli pare. Io preferisco prendere le mazzate. Arriviamo dunque al succo del discorso. Perché Machado questo weekend ci ha massacrati tutti quanti? Per vincere le gare servono due cose. Un pilota forte e un mezzo competitivo. Se metti un pilota forte su un mezzo non competitivo, non vince. A meno che il livello sia bassissimo e... Se metti un pilota scarso su un mezzo competitivo, non vince. A meno che il livello non sia bassissimo. Partiamo dunque dal pilota. Chi è Ivan Machado Perez? Da quello che vedo sul suo sito, corre dal 2011, tra kart e Formula Predator. E ha anche vinto dei campionati in passato con le Formula Predators. E corre sui simulatori di guida con iRacing. Ora, guardando i dati, possiamo indubbiamente dire che Machado è un fenomeno. Se andate a vedere il suo sito, che ho linkato qui sotto, guardate il palmarès. Io quando l'ho visto mi sono venuti i capelli bianchi. E poi li ho ritinti. Non sto neanche... Non le ho contate perché sono troppe. Comunque... Cioè, guardate i risultati. Primo, 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 secondo, terzo, primo, primo, secondo, primo, secondo, primo, terzo, primo, primo, secondo, terzo, primo, primo, secondo, primo, primo, secondo... Oh! Basta! Stai calmo! E poi lo scorso weekend ha mostrato dal vivo le sue capacità. Ha vinto gara 1 con l'acceleratore bloccato al 100%, facendosi 10 giri. Solo lui sa come e tenendo tutti dietro. E in gara 2 poi guardate il passo di gara che ha avuto. Ora, tralasciando il primo giro in cui prendi un attimo il ritmo e il settimo e ottavo in cui ha detto, ma sì, gli do gas, guardate gli altri giri. Lui si è fatto 7 giri con uno scarto di 58 millesimi. E di questi 7 ne ha fatti 4 con uno scarto di 5 millesimi. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma cos'è una macchina? Un computer umano? Come fai a fare tutti i giri identici? Io, cioè, a fine gara più che andare a stringergli la mano e digli bravo, che cosa gli vuoi dire? Davvero, io questo lo dico contro il mio interesse perché è quello che vuole correre, qui sono io. Ma trovategli un sedile in qualche campionato mondiale, perché io voglio vedere questo pilota cosa è in grado di fare ad alti livelli. Quindi il pilota c'è. Arriviamo ora al mezzo. Questo weekend ci siamo resi conto che a differenza delle Predators PC 0-10, che usavano gomme intagliate, dure come il legno, e in cui puoi andare forte anche guidandola di ignoranza. Infatti se si guarda come guidava Machado quando ha vinto il campionato con le PC 10, lui era sempre di traverso. Lui la guidava così la macchina. E andava forte, fortissimo. E col contrario, noi quest'anno con le PC 15 corriamo con le Slick. E con la gomma Slick devi essere molto pulito. E quindi qui ricopre un ruolo fondamentale il setup. E ora vi illustro con quali dati ho intuito che il setup qua è fondamentale. Prendiamo gara 1 a Cremona. Critelli, che ha vinto il campionato l'anno scorso con le PC 10, quindi qualcosa ci capisce, si presenta con un setup perfetto. Pole position e vittoria in gara 1, dominando. In gara 2 decide di fare una modifica sbagliatissima. E la macchina diventa inguidabile. Arriva Quinto, dietro di me, remando come un pazzo. E non è che da un giorno all'altro è diventato scemo. E Machado, in qualifica dietro di me, in gara terzo, lontano dai primi. Non era a posto con la macchina. Arriviamo poi a Varano. Il venerdì Machado girava più lento di me. E lui stesso mi ha detto che era in crisi col setup. Lui girava e la macchina non girava. Il sabato poi trova la quadra e ci rifila due secondi e mezzo. Dà un secondo a tutti e stravince. Altra cosa importante. Queste macchine sono sottosterzanti. Quindi hanno il problema che tu giri il volante e la macchina non gira. E tutti quanti lamentavamo questo problema. A Cremona in gara 1 non mi girava. A Critelli in gara 2 non gli girava. Il sabato mattina a me non girava. Il venerdì a Machado non girava. E questa difficoltà ne crea una ancora più grande. Da regolamento noi dobbiamo usare la mescola soft al posteriore e la super soft all'anteriore. Quindi davanti abbiamo una gomma molto più morbida che si consuma più velocemente. Ma se tu hai sottosterzo e la macchina non gira, tu vai a sforzare la gomma davanti. Che si consuma. Questo è il motivo per cui tanti vedevano nel mio video di gara 1 tutte quelle robe sulla gomma. Quella lì era la gomma che andava in pezzi. E quindi l'avete visto nel video. Critelli a Cremona ha distrutto le gomme anteriori e a Varano, che ha dovuto usare le stesse gomme da regolamento, non girava. Lui faceva le curve e la macchina non girava. Quindi questa analisi che ho fatto dimostra due cose. La prima è che Machado è fortissimo. E la seconda è che il setup è fondamentale. Se tu non sei a posto con l'assetto, non riesci ad andare forte. A questo punto quindi voglio fare una comparativa tra il mio miglior giro, 1-12 e 1, e il giro di qualifica di Machado, 1-10 e 6. Perché voglio capire insieme a voi dove lui mi dia un secondo e 6. Ora guardate in curva 1. Lui è entrato più forte di me. Infatti è avanti. E io in tutti questi due giorni ho avuto difficoltà a entrare così forte, perché ogni volta che entravo mi partiva il posteriore. E quindi ho dovuto iniziare a farlo un po' più piano. Curva 2 poi, lui vedete, salta tutto sul cordolo, la fa più forte di me. E in uscita mi ha dato tre decimi e mezzo, in una variante. Sicuramente io ho un problema d'assetto, dovuto al fatto che la macchina è troppo bassa, e ogni volta che salto sui cordoli tocca al fondo, sento proprio BOM. Ci sono anche alcuni punti del video dove lo sentite. E quando io salto sul cordolo, se la macchina tocca a terra, toglie grip alle gomme e la macchina si scompone. Quindi non riesco a saltarci forte. Quindi dai prossimi test cercheremo di alzarla e renderla meno nervosa sui cordoli per capire se sia un mio problema di setup o se sia Machado che con la guida riesce comunque a saltarci sopra e farla più forte. Alla curva 3 poi scopro qualcosa di incredibile. Io pensavo che lui frenasse, andasse un po' lungo, la ritardasse e poi accelerasse. Invece guardate qua. Io sto andando dritto per ritardarla, volante dritto. E lui invece sta già inserendo al volante girato. Entra quindi più stretto di me, facendo meno strada e riuscendo comunque a girare la macchina e uscire più forte. E in fondo al dritto mi ha dato altri tre decimi e mezzo. Non siamo ancora alla curva 4, io pogo già sette decimi. Alla seconda variante poi la storia si ripete. Entra più forte, la fa più forte, esce più forte e mi dà due decimi. E questo suo essere uscito più forte fa sì che in tutto il pezzo successivo che si fa in pieno, quindi è come se fosse un rettilineo, lui ha più velocità di me e quindi guadagna circa un altro decimo. Solo grazie alla velocità in uscita che ha avuto dalla S. Stessa storia alla curva X. Entra più forte, esce più forte e mi dà altri due decimi e mezzo. E qui arriva la cosa che mi ha sconvolto. Io prima di fare questo video ero convintissimo che Machado avesse trovato la formula magica per far girare la macchina più forte e quindi guadagnare in percorrenza. Perché, come si è visto dal video di gara 2, è proprio in questo punto qui che quando hai problemi di sottosterzo sei lentissimo e perdi terreno. E quindi mi sono detto, Machado ha trovato il setup per cui qui va più forte e guadagna tutto qua. E invece, guardate. Linee pressoché identiche e perdo solo un decimo. Il punto in cui io credevo che lui ne avesse di più e che fosse il setup a fare la differenza in realtà è il punto dove andiamo quasi uguali. Questa analisi dimostra che il setup che abbiamo trovato qui a Varano non aveva quei problemi di sottosterzo che tutti quanti hanno lamentato fino ad oggi. Dimostra che Machado il tempo lo fa semplicemente entrando più forte in tutte le varianti e uscendo più forte. La regola del motorsport. Frena tardi, entra forte, apri prima. Quindi noi nei prossimi test lavoreremo per rendere la macchina più stabile e rendermi più facile la vita nel saltare sopra i cordoli e io dovrò semplicemente impegnarmi a dare più gas e a guidare più forte. That's it. Grazie a tutti.